Avete mai pensato, miei cari amici, di investire in borsa a caccia di dividendi, di costruirvi un portafoglio permanente in ETF? Cos'è un portafoglio permanente? In pratica si tratta di costruire un portafoglio pigro da andare, diciamo, a farci manutenzione periodicamente, ma non tutti i giorni o tutte le settimane, esattamente un portafoglio pigro, ovvero proprio un portafoglio che deve andare avanti da solo, in sostanza, con qualche piccolo ribilanciamento programmato periodico. Amici miei, come sempre, sono Lorenzo, vi guido attraverso il mondo degli investimenti, attraverso il mondo del risparmio, tramite il mio canale, Investire in borsa a caccia di dividendi, un canale di informazione e di formazione ed educazione finanziaria. Oggi andiamo a vedere se può essere, in questo momento storico ed economico molto molto particolare, conveniente andare a costruire un portafoglio permanente. Per farlo ci aiuteremo con un post molto molto interessante di Leonardo Poggi, un consulente finanziario, post che potete trovare su Instagram, come costruire una strategia buy and hold, ovvero compra e tieni, e andremo a vedere appunto se può essere possibile e conveniente costruire una strategia di questo tipo. Come sempre, mi raccomando, prima di partire, un bel like, schiacciate sul pollicione verso l'altro, sosterrete il mio canale YouTube, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche schiacciando sulla campanellina. Riceverete una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video. Partiamo quindi con la spiegazione del portafoglio pigro. Il modello di Henry Brown, il Lazy Portfolio, Lazy vuol dire pigro, è un portafoglio costruito con fondi etf che richiede pochissima manutenzione, e per questo appunto è denominato pigro. Uno dei problemi principali con cui l'investitore si trova a fare i conti nella costruzione di un portafoglio pigro è la complessità. Ovvero, come orientarsi tra i miliardi di soluzioni offerte dall'industria finanziaria per creare ad arte il proprio Lazy Portfolio, il proprio portafoglio pigro? Andiamo subito a vedere. Esiste un'ampia gamma di portafogli modello ispirati alla logica del Lazy Portfolio, tra cui probabilmente il Permanent Portfolio, creato da Henry Brown. Esperto di marketing, consulente finanziario, politico e scrittore americano negli anni 80 ed è stato uno tra i più famosi portafogli pigri. La strategia è basata sulla logica buy and hold, compra e tieni, che infatti prevede l'investimento iniziale negli strumenti senza l'onere di movimentazione successiva. Visto che siamo esseri umani e in quanto tali condizionati dalle emozioni e dalle sollecitazioni esterne, mezzi di informazioni, dati aggregati, chiacchiera al bar, canali YouTube anche metterei. Le nostre decisioni spesso rischiano di non essere razionali e dunque controproducenti. Evitare di decidere e dunque non far nulla spesso diventa la migliore scelta. Esattamente quello che dico io, spesso, o almeno quello che faccio io, poi se vi piace copiatelo, se non vi piace non copiatelo, non sono consigli, però sono, diciamo, opinioni che devo esporre e faccio vedere anche la mia storia. Quindi a volte evitare di decidere spesso diventa la scelta migliore. Buy and hold è proprio questo. Allora, il portafoglio degli anni Ottanta di Henry Brown era composto per un pubblico americano. 25% obbligazioni USA a breve termine, 25% obbligazioni USA a lungo termine, 25% oro, 25% azioni, molto molto semplici e replicabili anche tramite fondi o ETF molto molto banali. Ma può andare ancora bene un portafoglio di questo tipo e soprattutto per l'investitore europeo può essere sufficiente? Forse meglio un 60-40? Allora, la finalità di questa soluzione è quella di creare un portafoglio che sia meno volatile di un portafoglio azionario o bilanciato e quindi meno vulnerabile ai crolli di borsa ma ovviamente anche meno redditizio. La differenza di rendimento nel tempo 10 anni è evidente. Vediamo infatti la linea verde 60-40, obbligazionario azionario, in 10 anni da 100 euro iniziali è arrivato a valere 250 euro, il permanent portafoglio da 100 euro iniziali è arrivato a valere 200 euro, quindi 50 euro in meno, non è poco. La soluzione sarebbe quella di adottare questo genere di portafoglio a un investitore europeo, andando a cambiare l'asset class anche in virtù del fatto dei nuovi rendimenti delle obbligazioni e del momento post-covid. Come? Bella domanda, allora, innanzitutto scrivetemi pure le vostre opinioni alla fine di questo video YouTube, scrivete nei commenti, allora, secondo me, quali potrebbero essere le soluzioni? Allora, di sicuro, tornando sulla composizione del portafoglio, permanent portafoglio di Henry Brown, possiamo vedere come l'esposizione sia sostanzialmente tutta su, o quasi tutta, su asset class denominate in dollari americani, quindi fortissima esposizione alla valuta americana. Per un investitore europeo questo potrebbe rappresentare un problema. Inserendo, anziché le obbligazioni USA a breve e a lungo termine, inserendo obbligazioni denominate in euro, i rendimenti, per forza di cose, si schiaccierebbero in maniera pericolosissima. L'oro, inoltre, abbiamo visto come abbia reso molto bene nell'ultimo periodo, ma sia comunque soggetto a una fortissima volatilità anch'esso. Quindi un 25% potrebbe risultare eccessivo. Come ovviare, quindi, alla volatilità dell'oro e al rendimento schiacciatissimo delle obbligazioni europee? Allora, di sicuro, un po' di obbligazioni USA ci potrebbero stare in portafoglio. Si potrebbe, ad esempio, diversificare inserendo magari un po' di obbligazioni high yield, consci comunque del rischio che si corre, o un po' di obbligazioni mercati emergenti. Anche in questo caso si alza la volatilità, però si potrebbero ottenere rendimenti più elevati. Altra soluzione potrebbe essere quella comunque di mantenere un po' di liquidità, magari sul conto corrente o su un conto di deposito, per andare a sfruttare cali repentini dei mercati, quindi cogliere eventuali occasioni. Un altro modo per coprirsi dalla volatilità delle azioni potrebbe essere quella magari di comprare un ETF sul VIX. Cos'è il VIX? In pratica è un indice che misura la volatilità dei mercati azionari e solitamente è inversamente correlato con i mercati azionari stessi. Quindi se i mercati azionari scendono il VIX sale e quindi in questo modo c'è un ribilanciamento. Perché questo? Perché se in passato obbligazioni e azioni di solito andavano in controtendenza, negli ultimi anni abbiamo visto che non succede più così. Quindi in qualche modo bisogna coprirsi dalla volatilità dei mercati azionari. Un'altra alternativa, secondo me molto molto buona, sarebbe quella di eventualmente affidarsi a investitori professionali, come attraverso fondi o SICAV gestite attivamente, quindi mettendosi in mano di una società di gestione del risparmio. Chiaramente, come tutti sappiamo, i costi di gestione sono un pochino più alti, però si eviterebbe una movimentazione eccessiva del portafoglio. D'altronde, anche se io continuo a comprare e vendere, i costi mi si alzano per forza, perché le commissioni di compravendita incidono pesantemente. Affidandomi invece a un gestore professionale, magari con una grande storia alle spalle, e che ha dimostrato nel corso degli anni di saper gestire anche i mercati più difficili da navigare, potrebbe essere una soluzione molto interessante. Chiaramente, adesso non andiamo a vedere ETF o fondi attivi nello specifico, altrimenti il video diventerebbe veramente lunghissimo, però se avete qualche idea, come detto prima, scrivetemi nei commenti, vi aspetto quindi numerosi con le vostre opinioni, oppure, come sempre, se volete mi trovate anche sugli altri canali social. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto, ciao!